Il diritto tra i fondamenti della cultura europea Su Giovanni da Capestrano E questo è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 17 marzo Un convegno sul rapporto tra il santo e il diritto come fondamento della cultura europea A organizzarlo è il presidente del centro studi di San Giovanni da Capestrano, Cristina D'Alfonso Un momento di riflessione su Giovanni da Capestrano, giurista e paladino della legalità Ma anche sulla sua opera, quella di un santo definito una fiamma gialla antelitteram Dal generale Flavio Agnello, comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza Tra i relatori del convegno ci sarà Fabrizio Marinelli Che parlerà dell'azione al contrasto all'usura E poi ancora il professor Filippo Sedda e il professore Andrea Bartocci Che relazioneranno sul pensiero giuridico del santo L'introduzione del convegno sarà affidata al professor Marco Bartoli La chiusura sarà di Luciano D'Alfonso La giornata di studi, valida come aggiornamento professionale per l'Ordine degli Avvocati d'Abruzzo Si svolgerà dalle 10 alle 13 al convento di San Francesco a Capestrano La giornata di studi, valida come aggiornamento professionale per l'Ordine degli Avvocati d'Abruzzo La giornata di studi, valida come aggiornamento professionale per l'Ordine degli Avvocati d'Abruzzo